Abbiamo speso in quell'epoca, sto parlando di 2004, 9-10 milioni di dollari per costruirlo nella zona Mee Packing che era ancora tutto periferia, non confermata, abbiamo rischiato tanto e lì è andato super alla grande, 4 stelle e lì abbiamo arrivato a fatturare. Apri il tuo primo ristorante appunto in questa zona qua e poi come sei? Un secondo, sempre in questa zona, si chiamava Esca, poi nel 97 acquisto i miei primi 8 etteri di vigna in Collio Orientale di Friuli, anche lì era cercando sempre di ritornare, nasce mia figlia nel 97, volevo anche avere una realtà italiana crescendo questi figli, allora inizio a produrre vino in Friuli con l'azienda Bastianich nel 1998 e da lì avevo trovato un socio e abbiamo aperto Babbo nel West Village nel 98 che diventa un ristorante molto molto importante. Per 20 anni Babbo era un ristorante di punto mediatico in una zona super figa, West Village e da lì ho un po' scoppiato tutto. Tua figlia l'hai fatta nascere in America o in Italia? I miei figli sono nascendo in America. Sono americani? Io ho una figlia e due figli tutti nati in America. Tutti americani. Come mai c'è una scelta particolare? Perché ovviamente... Tu ti senti americano o italiano? Io mi sento americano. Americano, 100%. Mia moglie è americana e la scelta non era neanche lì. Ok, ok, ci sta, ci sta. Tornando un po' indietro, come facevi ad avere tutta questa convinzione per aprire così tanti ristoranti? Cioè, dov'è che avevi imparato? C'era questo tuo collaboratore socio che ti insegnava? Sì, era ambizione anche in America crescere o morire, anche oggi. Non puoi avere un ristorante, è molto difficile, perché anche per crescere, per avere dipendenti, fighi, manager, devi dimostrargli che c'è un percorso di crescita, di spostarli in mondo, devi crescere. Cioè, questo tuo socio, Mario Batali, giusto? Era quello che ti ha insegnato oppure eravate diciamo allo stesso livello dal punto di vista? Ma magari lui era forse un po' più mediatico di me, più grande di me, sì, però l'ambizione è stata entrambi. Ok, ma come facevi a decidere che tipo di ristorante aprire? Quindi apro un ristorante... Era un po' forse la nostra capacità, la mia capacità era di capire cosa era il ristorante autentico italiano. Allora Babo diventa forse il primo ristorante nel 98 di fare un tipo di cibo che in America non esistesse ancora, di ci inventiamo il crudo per la prima volta che nessuno... Il crudo di pesce? Sì, non esisteva. Infatti tipo il New York Times ha scritto un articolo che questa roba ci hanno inventato. Pesce crudo non è una cosa italiana, infatti era una cosa italiana. Adesso ogni ristorante in America... Ah, il crudo, sì. E come la ristorazione totalmente sta diventando più italiana, non ci sono più... Ci sono ristoranti italiani ma ogni ristorante è italiano in tanti diversi. Tutto l'anno la burrata, il crudo, i tortellini... E' vero, la burrata è arrivata ovunque. La burrata è arrivata ovunque, sì, sì, è vero, è vero. E poi sempre insieme a questo socio hai aperto anche un altro ristorante del posto... Prima abbiamo aperto Lupà, posteria romana, che era forse la prima trattoria proprio regionale in America, dove ci faceva strettamente come essere in Trastevere. Cacio e pepe, matriciana, coda, bababà, salto in bocca. E lì è andato super bene, ha creato tutta una categoria di ristoranti e poi da lì abbiamo aperto anche... Beh, del posto arriva con l'ambizione di fare il primo ristorante quattro stelle italiano in America. Cioè quattro stelle ti dici del New York Times, giusto? Del New York Times. Cioè ti volevo chiedere appunto cosa vuol dire, cosa sono le stelle del New York Times? Sono così importanti come il riconoscimento? Beh, adesso nel mondo internet e telefoni è tutto meno importante queste stelle. Però le stelle del New York Times erano come le stelle Michelin in America. Infatti non c'era forse solo un ristorante italiano prima del posto nella storia dell'America, nella storia del New York Times che ha ricevuto quattro stelle. Noi abbiamo riusciti a tre stelle con Babbo, che è già super top, tre stelle con Esca. Lupo era una trattoria, comunque ha preso due stelle. E poi con Del Posto, che è un ristorante gigante. Era un ristorante di 3500 metri quadri. Quanti coperti? Sì, alla cart, 300 coperti, 500 in sale private. È una cosa mega. Abbiamo speso in quell'epoca, sta parlando di 2004, 9-10 milioni di dollari per costruirlo. Nella zona Me Packing, che era ancora tutto periferia, non confermata, abbiamo rischiato tanto. E lì è andato super alla grande, quattro stelle. E lì è arrivato a fatturare anche 24 milioni di dollari in un anno. Wow! Che poi, primo ristorante... Tipo 450 dipendenti. Wow! Primo ristorante italiano che ha ricevuto quattro stelle, poi, in America. Ma come si fa a mantenere una qualità ottima, avendo così tanti coperti? Cioè, non vanno a ridurre un po' la... Magari non si sa... No, con tanti coperti, con tanta struttura, ti lascia prendere ragazzi anche molto capaci, che hanno tanto voglia e tanta passione per il mestiere. Era un'impresa, una cosa che è difficile fare oggi, come oggi erano altri tempi. Chiaro. Adesso sei nella completa delega totale o ogni tanto ti capita di andare a controllare, a guardare proprio sul... No, no, io vado, vado. Vai sempre, comunque. Quando sono a New York, è un po' live, stavo al mio ristorante, saluto i ragazzi, faccio un bicchiere di vino, mangio qualcosa, poi vado a casa. Certo. Ci sta, ci sta.